Nathan Falco Briatore cresce, è il figlio di Elisabetta Gregorace e Flavio Briatore a 12 anni ed è già più alto della mamma. La scioga al 42enne è orgogliosa del suo ragazzo e condivide sui social le tappe più importanti della vita del figlio, dal primo giorno di scuola ai compleanni passando anche per qualche incidente. Più alto della mamma scrive l'amora su Instagram mostrando Nathan che ormai l'ha raggiunta. Grazie per la visione!